Scelgo di intervenire attraverso un comunicato, non certo per paura di un confronto, che avverrà lunedì 26 settembre 2022 alle ore 17.30. Esordisce così il presidente Angelo Antonio D'Agostino in una nota ufficiale per fare chiarezza sull'eventuale cessione del club bianco-verde. Il numero uno del sodalizio Irpigno ha poi ripercorso i sacrifici della sua gestione e i risultati che sono arrivati nelle precedenti due stagioni, rimarcando rammarico e delusione per la contestazione che sta subendo. Abbiamo rilevato l'Avellino, si legge, due anni e mezzo fa, non gratuitamente, in una situazione di assoluta difficoltà debitoria e ad un passo dal baratro. Abbiamo disputato una sola partita e poi il campionato è stato sospeso per il Covid. Ne abbiamo approfittato per ripienare i debiti. Pochi mesi dopo è stato fatto un ulteriore investimento rispetto a quanto previsto per disputare una sola gara di play-off, appunto per dimostrare alla piazza che non ci saremo mai sottratte ad alcun impegno. La stagione 2021-2022 non è andata come volevamo ed abbiamo optato per un cambio di rotta, annunciando i repulisti, poi attuato nei mesi successivi. Non comprendo perché mi si chiede di chiarire qualcosa, dichiara il Presidente, che è chiaro nei fatti. Anche quest'anno è stato dato mandato alla nuova area tecnica di rispettare i programmi che ci siamo dati due anni e mezzo fa, senza cambiare assolutamente i nostri obiettivi. Purtroppo i risultati non ci stanno dando ragione, ma siamo soltanto alla terza giornata del campionato ancora a lungo. Che in questo momento sia deluso, amareggiato ed arrabbiato è la verità, ma non ho mai pensato neanche un momento di cedere alla società. Certamente non è il contesto che immaginavo e sognavo quando ho deciso di rilevare l'Avellino. Da Erpino sentirsi offeso sul piano personale, familiare e professionale con striscioni e cori indecenti, non certamente soltanto sul piano sportivo, è qualcosa che mi lascia perplesso. Un clima di destabilizzazione probabilmente alimentato da mitomani che hanno astio contro l'uomo, Angelo Antonio D'Agostino. D'altro canto, mi hanno fatto molto piacere gli innumerevoli attestati di stima e solidarietà che mi sono arrivati in queste ore. Un presidente ha anche bisogno di questo. Ringrazio tutti gli stakeholders che ci sostengono dal nostro primo anno di gestione. Il loro apporto è fondamentale. Se qualcuno avesse intenzione di fare un passo in più al nostro fianco, ne saremo ben lieti. Vi assicuro però che l'Avellino è stato e resta in buone mani per garantire dignità al nostro glorioso sodalizio, confidando sull'arrivo quanto prima dei risultati sportivi positivi.